il quarto tipo di tutela applicabile alle opere di design ai disegni modelli è di carattere secondario io lo chiamo così perché sono come vedrete forme di tutela che non sono nate specificamente per il design però sono applicabili anche al design il primo l'abbiamo già visto abbiamo già parlato cioè il marchio di forma va a coprire anche la forma esteriore di un prodotto e quindi anche se siamo nel campo dei marchi diventa utile per tutelare anche il design capite quindi quando il caso che esempio della bottiglia abbiamo già fatto prima il caso che esempio della forma dell'alberello dell'arbre magique del deodorante per auto nella forma delle chitarre la forma degli orologi ce l'abbiamo già detto alcuni casi la semplice forma del prodotto è così iconica così già distintiva che può essere marchio e allora viene tutelata come marchio e ci sono delle norme delle regole nella parte sui marchi quindi siamo fuori dalla normativa sul design che ci danno indicazioni su come su come sfruttare questa forma di tutela e la differenza non è da poco perché questo essendo marchio può essere rinnovato ogni dieci anni all'infinito e quindi in alcuni casi non è male cioè aiuta perché il design sappiamo che al massimo sono 25 anni 5 anni all'inizio più rinnovi vari fino arrivare al massimo di 25 il marchio invece non ha un massimo dura dieci anni poi può essere rinnovato tutte le volte che si vuole ovviamente se c'è se c'è davvero uso e se c'è interesse a tutelarlo marchio di forma abbiamo già dato la definizione questo è proprio preso pari pari dalle slide sui marchi e l'ho rimessa giusto perché abbiate completezza di questa materia quindi affinché si possa registrare un marchio di forma la forma deve avere di per sé capacità distintiva e non deve ricadere nei casi descritti dall'articolo 9 del codice della proprietà industriale no vi ricordate diceva l'articolo 9 cioè che non possono essere oggetti di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto oppure dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico oppure dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto ok quindi è il caso del vi ricordate il caso del mattoncino lego poi qua ho lasciato ancora il link alle slide di corradini in cui ci sono quelli esempi di marchi di forma di forma registrati erano quelli relativi alla moca mi ricordo la caffettiera poi c'erano le automobili c'era la smart che era stata registrata come 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 marchio di forma mentre la fiat 500 no poi c'era il la colonnina del distributore di benzina vi ricordate con le slide nel link trovate la possibilità di aprirle sono online però ecco il caso più interessante in materia di marchio di forma era questo cioè una sentenza che aveva una sentenza di fronte alla corte di giustizia l'unione europea su cui appunto aveva deciso appunto la corte giustizia aveva deciso un caso tra lego iuris contro era mega brands che a mattel no e nel il primo aprile del 96 appunto la lego società danese che produce giocattoli ha presentato all'uami quello che adesso è euipo cioè l'ufficio marchi brevetti europeo una domanda di registrazione come marchio comunitario di un matto di un mattoncino giocattolo da costruzione rosso cioè il semplice mattoncino doveva essere registrato come marchio abbiamo già visto che in realtà poi c'è stata opposizione da parte di mega brands cioè della mattel che facendo cose simili si sentiva violata si sentiva disturbata da questa registrazione perché avrebbe dato un potere troppo forte all'ego di impedire a tutti gli altri di fare qualsiasi tipo di gioco basato sul concetto di costruzione cioè di mattoncini che si incastrano l'uno con l'altro no e infatti l'uami ha dichiarato su base della sua istanza della mattel l'uami ha dichiarato nullo detto marchio con la motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino l'ego sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione pratica e non a fini di identificazione e poi siamo andati di fronte al tribunale di prima istanza cioè il primo grado del diritto della giurisdizione europea ha dichiarato che il diritto dell'unione europea osta alla registrazione di forme esclusivamente costituite nelle loro caratteristiche essenziali nella forma del prodotto tecnicamente casuale è sufficiente al conseguimento di un risultato tecnico prefissato cioè i mattoncini sono fatti così non perché ci sia stata sta grande sforzo di design ma perché si devono incastrare l'uno con l'altro quindi non ci sono tanti modi per farlo la lego però non contenta ha impugnato tale sentenza e finché anche la corte di giustizia gliel'ha dovuta rifiutare e quindi siamo arrivati allo step finale e quindi la corte di giustizia accolte l'occasione anche per affermare innanzitutto che il divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto perché eccede rispetto alla funzione del marchio eccede rispetto a quello che il marchio normalmente il lavoro che il marchio normalmente fa per fare quelle cose ci sono altre tutele che forse sono più simili al brevetto no qua lo dice però non non è certo il marchio la soluzione per ottenere questo tipo di tutela chiudo con la norma che chiudeva anche la parte sui marchi in cui dicevo che quando proprio non si riesce a tinare in ballo nessun altro tipo di strumento giuridico spesso gli avvocati si aggrappano all'articolo 2598 codice civile cioè l'articolo che si occupa degli atti di concorrenza sleale tra questi questa norma dovreste già conoscerla perché l'abbiamo vista appunto alla fine della parte sui marchi però ce ne sono due che ho messo in rosso che riguardano anche la creazione di oggetti di design quindi fermo restando le disposizioni a tutela dei segni distintivi dei diritti di brevetto compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi di design o imita servilmente i prodotti di un concorrente oppure si appropria dei pregi dei prodotti dell'impresa di un concorrente ok gli altri riguardano più che altro il mondo dei marchi oddio questo è un po il terzo punto è un po un ancora di salvezza perché ci mette dentro un po tutto cioè si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrua azienda insomma è molto molto generico però ecco imita servilmente i prodotti di un concorrente è davvero la parte che che va a toccare un po l'aspetto del design cioè se io faccio oggetti di design proprio smaccatamente in imitazione di altri anche se non c'è una violazione di un design cioè anche se il quello che il mio concorrente che io sto imitando non ha depositato il design non ha voluto tutelarlo in nessun modo mi può sempre fare causa sulla base della violazione dell'articolo 2598 che è una causa civile diciamo più ordinaria però in materia di concorrenza sleale cioè è un atto viene considerato atto di violazione delle buone norme di concorrenza tra imprese io ho lasciato un po di link un po di approfondimenti è una materia che sicuramente sicuro credo vi abbia destato un po di curiosità e confido che vogliate anche autonomamente approfondire le slide del video sono sotto licenza creative commons grazie